Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto, se anche tu come lo sei iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno e ti ringrazio. Oggi ti parlo di Honda CBF600N del 2006, prima di partire voglio salutare l'amico Warner che ha contribuito alla diffusione del canale, è un meccanico d'auto che ha restaurato il suo Malaguti MRX50 del 1989, la sua officina di riparazione auto si chiama WM Auto Service e si trova in via San Michele 15 a Briccarasio in provincia di Torino. Per un contatto immediato il telefono è 3 8 22 39 7 95, naturalmente lo trovi qui sotto in descrizione e te lo dico perché c'è uno sconto del 10% se ti presenti a nome del canale. Quindi oggi parliamo di questa Honda CB e vorrei tornare su questo discorso perché secondo me sono moto interessanti queste che sto trattando in questo periodo, non so se hai seguito le altre video e sono moto che ti permettono di poter muoverti agilmente senza costi eccessivi, quindi anche come usato. Il progetto di questa moto in particolare nasce dall'idea di produrre una moto intelligente che possa essere un'alternativa valida allo scooter, quindi partendo da un'ottima base come la Honda Hornet dell'epoca naturalmente, Honda mantiene lo stesso telaio ma progetta una moto che esteticamente fosse rassicurante in modo da attrarre un pubblico più eterogeneo, addolcisce il motore portando la potenza dai 96 cavalli della Hornet di quegli anni ai 77,5 cavalli di questa moto. Quindi esattamente nel 2006 presenta la CB600N che sta per Naked, quindi senza carenatura, c'è anche poi la S che ha una piccola carenatura molto interessante, si presenta sul mercato per la prima volta e rimane fino al 2011, quindi a questo punto direi di vederla, eccola qui in questa bella immagine che la rappresenta, quindi è un 4 cilindri, ricorda molto la Hornet ma naturalmente è una moto diversa con caratteristiche diverse, quindi il motore stavo dicendo 4 cilindri in linea, ha fredato a liquido, 4 tempi, l'accendata è 599 cm3, bialbero in testa con 4 valvole per cilindro, potenza massima di 77,5 cavalli e 10.500 giri al minuto con una coppia massima di 59 Nm a 8.250 giri al minuto. Il 3Di è formato da un monotrave in alluminio, la sospensione anteriore da una forcella telescopica tradizionale, la vediamo bene nell'immagine, è un doppio freno, eccolo qui, meglio evidenziato, è da 296 mm, la selle alta 785 mm da terra, al posteriore abbiamo poi un monomortizzatore e il freno con un disco da 240 mm, le ruote sono molto belle, lega leggera, da 17 pollici, il serbatoio da 19 litri, e un peso secco di 197 kg, che è una moto molto bilanciata in ogni sua componente, è molto interessante. Se ti è piaciuto il video metti un like, se non ti è piaciuto metti dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi, in primis è gratis, non ti costa assolutamente nulla, ma contribuisci alla diffusione del canale, ti ringrazio, in secondo luogo faccio un video al giorno, come puoi vedere, quindi sarai sempre aggiornato, aggiornato sui nuovi contenuti. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre molto graditi, ciao, grazie e buona serata.